Ciao, bentornati su Parlare Digitale, io sono Tommaso e oggi vi parlerò di come ho ottenuto il mio primo lavoro. Infatti, per chi non lo sapesse, ho 23 anni, da 5 anni lavoro nel mondo delle start-up e spesso ricevo domande in merito a questo inizio lavorativo così precoce. Non che io sia un fenomeno, assolutamente, ci sono persone che hanno fatto molto più di me molto prima. Questa non è una storia incredibile, sensazionale del 17enne che ha cominciato, l'azienda ha fatto i miliardi, che ha cominciato a fare Amazon FBA, che ha cominciato a fare quello che volete, tutte cose legittime, ma io ho cominciato con un percorso più tradizionale, semplicemente un po' prima, magari, ecco, quindi mettiamolo così. Quando avevo 18 anni mi ero, insomma, mi stavo cercando scuse per non studiare alla maturità e l'obiettivo principale per me era capire che cosa avrei voluto fare da grande e pensavo che sarei andato a lavorare, che non avrei fatto l'università. Quindi da qui parte un po' il mio percorso lavorativo. Oggi voglio darvi un piccolo riassunto, cioè un po' di storia personale, ma soprattutto voglio anche darvi qualche consiglio, qualche perla su quello che ha funzionato per me da 18enne senza esperienza lavorativa che è venuto assunto, ma anche quello che oggi cerco nelle persone che intervisto durante appunto la mia attività lavorativa, visto che oggi sono dall'altra parte del tavolo, sono quello a fare le domande, che mettono in ansia, che mettono pressione e che poi decide chi assumere. Quindi metterò insieme questi due aspetti della mia vita, uno di cinque anni fa, uno di oggi, per cercare di darvi degli strumenti che vi permettano di trovare il primo lavoro migliore possibile, perché credo che sia uno dei catalyst, uno dei catalizzatori più importanti per la carriera di chiunque. Se voi iniziate con una carriera all'interno di un'azienda che vi permette di crescere, di imparare, di conoscere persone nuove, interessanti, siete già 3000 passi avanti. C'è sempre tempo per migliorare, per cambiare, per fare errori, assolutamente, però ecco, se non li fate, se partite bene, è già un grande passo avanti. Quindi, come dicevo, io ero convinto che sarei andato a lavorare, mi sono interessato a questo programma dell'Unione Europea, che vi consiglio di andare a vedere, che si chiama Erasmus Trainership, ed offre la possibilità a studenti di fare un Erasmus, però lavorativo. Quindi voi fate tutte le cose che fanno i normali studenti Erasmus, vi trasferite in un altro paese, ma invece di fare quello che gli studenti fanno, cioè studiare tutto il giorno, dalla mattina alla sera in Erasmus, chiaramente, non fanno altro, voi andate lì per lavorare. Beh, bella sfiga, direte. Beh, sì e no, perché comunque è un modo ottimo per farsi assumere da un'azienda che magari non vi assumerebbe se dovesse pagare, voi non potreste trasferirvi in un altro paese senza uno stipendio, l'Unione Europea vi viene incontro e vi dà dai 300 ai 600, 700, adesso non lo so, euro al mese in base al paese in cui vi trasferite, vi permette di sostenervi e allo stesso tempo voi ottenete quella tanto famosa esperienza lavorativa che viene richiesta sempre e per sempre. Quindi, questo è il primo consiglio, andate a cercare l'Erasmus Trainership, tra l'altro, se non sbaglio, non vi esclude dal programma Erasmus, quindi se volete fare festa o se l'avete già fatta, comunque poi avete l'opportunità di fare l'Erasmus Trainership, se non sbaglio, e anche durante l'Erasmus Trainership, a essere sinceri, ci sono tante opportunità che potrete avere di divertirvi, quindi non sarà un problema da quel punto di vista. Quindi questo è il primo consiglio. All'interno di questa piattaforma io trovai due opportunità principali, una era in Estonia un marketplace di... no, un'agenzia di marketing per marketplace verticali, anche ad oggi ho problemi a dirlo, e all'epoca ne avevo ancora di più, all'epoca non avevo idea di cosa significasse, ma l'intervista andò bene, tant'è vero che... io la chiamerò intervista per defezione inglese, inglofona, in realtà si chiama colloquio, scusatemi. Andò bene, tant'è vero che al colloquio di maturità dissi ai professori che io sarei andato in Estonia a lavorare, anziché andare all'università come tutti i miei compagni di classe, e loro mi guardarono con una faccia sconvolta, capendo che effettivamente io avevo la faccia da disoccupato, e quindi insomma mi lasciarono lì un po' con disgusto, però a parte questo, a parte queste cose su cui possiamo sorvolare, ero abbastanza carico, abbastanza deciso, e da questa storia insomma c'è il primo insegnamento, cioè quando voi andate a fare un colloquio per un qualsiasi tipo di lavoro, per favore preparatevi sull'azienda con cui state andando a parlare, e cercate di avere delle risposte base su cosa fanno, chi sono, un po' di storia, e perché vi siete candidati a quell'offerta lì, ok? Quando io comincio un'intervista, per esempio, un colloquio, per esempio, qua c'è il mio cane che spero non si sente in maniera eccessiva, la prima cosa che faccio è presentarmi, dire un po' su di me e sulla storia dell'azienda, e poi chiedere, ah, dimmi che cosa hai capito riguardo a quello che facciamo, così poi, no, se ti mancano delle informazioni, ti do una mano a capire, e poi proseguiamo con l'intervista, comincio a farti delle domande più specifiche. Questa domanda, oltre ad aiutare la persona di fronte a me, che chiaramente non può sapere tutto sul business, mi serve anche a capire se la persona di fronte ha fatto i compiti a casa e si è andata a leggere effettivamente che cosa fa l'azienda per cui si è candidata, o candidato, e perché mi interessa? Mi interessa perché chiaramente io non voglio persone che si, ecco adesso il mio cane è apparso, che si candidano per tutto, senza remore, senza obiettivi, voglio delle persone che, una volta che si uniscano alla mia azienda, siano parte del team, siano coinvolte, abbiano a cuore la missione, la visione dell'azienda, quindi queste sono tutte cose molto importanti per un datore di lavoro. Cercate di studiarvi in maniera semplice, no, bastano un paio d'ore, un'oretta, che cosa fa l'azienda, perché una volta che andate lì qualcuno prima o poi vi scoverà se non sapete con chi state parlando e con che azienda state parlando. Questo è il primo consiglio. Il secondo è andate un po' più in profondità e cercate di capire magari anche i dintorni dell'industria, no? Quella era un'agenzia che si occupava di marketplace verticali, io più o meno, googlando un po', ho cercato di capire, ok, che cos'è un marketplace verticale, quali sono le funzioni che ha questa azienda per i marketplace verticali, quali sono i vantaggi, e facendo questo accadrà un'altra cosa molto interessante, cioè comincerete ad avere idee su cosa fare. Queste idee saranno probabilmente estremamente banali, non per offendervi, non per dire nulla, ma ci sono persone che lavorano in quell'azienda, in quell'ambito da anni, e probabilmente molte idee le hanno già avute. Però voi avete una visione fresca sulle cose, avete una visione nuova, innovativa, e quindi potreste avere, no, delle idee su, ok, come posso migliorare un marketplace verticale, come posso rendere più scalabile il servizio che loro offrono, no? Magari sono delle idee che qualcuno ha già avuto, però la vostra testa comincerà ad accumularle, voi non sapete qual è lo standard dell'industria, magari, visto che non avete tutta questa preconcezione, troverete anche un modo innovativo di fare le cose. E queste idee, assolutamente, per favore, scrivetele, ricordatele in qualche modo, scriverle è sempre la cosa migliore, mettetevele da parte, perché le andrete ad utilizzare durante il colloquio. Durante il colloquio, se voi non avete esperienza lavorativa, una delle cose migliori che potete fare, dal mio punto di vista, è quello di cercare di offrire dei consigli o, diciamo, di quantomeno dire che cosa fareste se doveste cominciare a lavorare lì. Ora, passiamo all'esempio del lavoro che io effettivamente presi, poi, alla fine del mio percorso di ricerca, cioè questo lavoro part-time con Uniplaces, che era una startup portoghese che aveva appena fatto questo Series A da 20 milioni di euro, quindi, quando lessi la notizia su solo 24 ore, io ero tipo, ah, questa è la next big thing, non avevo ancora idea di come funzionasse il mondo delle startup e quindi questi numeri mi facevano letteralmente venire il capogiro, pensavo fosse una cosa incredibile, poi, una volta che ci sei dentro, capisci che sono cose normali, non che, insomma, voglia sputare nel piatto dove ho mangiato, anzi, era un'azienda che al tempo era molto interessante e funzionava molto bene, poi le cose cambiano, si evolvono e non parliamo di questo adesso. Comunque, appunto, al tempo mi sembrava una cosa veramente, veramente interessante, decidi di... avevo deciso di andare con loro e durante il colloquio con la grandissima Sania, che tra l'altro parla italiano, quindi si sta vedendo, ciao Sania, magari un giorno ti farò un'intervista anche per parlare di cosa ti ha convinto e cosa non ti ha convinto in quel colloquio, se te lo ricordi, e durante quella chiacchierata io decisi di offrire 4, 5, 6 idee su cosa Uniplasis avrebbe potuto fare per aumentare le vendite, o lato marketing e cosa avrebbe potuto fare. Molte di quelle idee erano idee sciocche, no? Dopo due mesi all'interno dell'azienda avevo già capito che non ero io un genio, se quelle cose non le facevano c'era un motivo o c'era una mancanza di tempo. Questa di solito è la risposta. Però credo che l'aver dato quei punti di vista, quelle idee, quelle opinioni, ha dimostrato innanzitutto che ero in grado di avere quelle idee, ero in grado di pensare quelle cose, ero in grado di... avevo le basi sufficienti per pensare a come migliorare un processo, a come migliorare una qualsiasi cosa. E questo è assolutamente una componente importante durante un colloquio. Voi dovete pensare che la persona davanti assume un rischio enorme quando assume una... qualunque persona. Quindi più voi siete in grado di ridurre i dubbi che la persona ha su di voi e su quello che sapete fare, più siete messi meglio. Il mio obiettivo in quel caso era quello di comunque fugare i dubbi sul fatto che io sapessi di che cosa stessi parlando. E il modo di farlo è quello di dimostrare che avete delle idee, che sapete cosa potreste implementare, che... insomma siete anche propositivi, no? L'essere propositivi per una startup è molto importante. Quando discuto chi assume e chi no, con i miei colleghi, con i miei co-founder, una delle cose che discutiamo spesso è ok, questa è una persona propositiva. È diventata un po' una buzzword se vuoi. Però è vero, cioè tu hai bisogno, quando siete in pochi, di persone che abbiano idee e che non si facciano... che non abbiano paura di portare avanti quelle idee, di condividerle, che siano abbastanza sicuri di sé da non imporle, ma di metterle sul tavolo. E poi magari da quell'idea non nascerà niente, ma dai rimasugli di quello che si è detto nella discussione verranno fuori altre cose. Ci sono tanti motivi per cui una persona propositiva è ben accetta e ben voluta all'interno di molte aziende. Poi chiaramente se state andando a fare un lavoro completamente meccanico oppure un lavoro in cui le istruzioni sono chiare, predefinite e decise, il tipo di atteggiamento è un altro. Io qui sto parlando di lavori principalmente creativi, digitali, insomma. Quindi da questo punto di vista la maggior parte delle persone apprezzeranno questa vera idea. Guardando indietro devo dire di essere stato forse anche troppo arrogante, no? Pensavo di avere la soluzione in tasca e fossi stato insania, forse uno sberletto me lo sarei dato. Però penso che, insomma, sia stato più il bene che il male. Ecco, cercate di non essere saccenti, perché le persone che avete davanti molto probabilmente ne sapranno più di voi e anche se non dovessero, comunque saranno quelli che prenderanno la decisione. Quindi cercate, insomma, di essere cortesi, quantomeno. Quello è veramente il minimo, perché un'altra cosa importante è quando io assumo qualcuno voglio pensare di poterci lavorare bene assieme. Se una persona non è una persona piacevole, anche se è una persona ottima a livello lavorativo, io non l'assumerò perché so che questo creerà problemi dopo. Se tu sei una persona difficile con cui lavorare, non lavorerai bene con i tuoi colleghi, non comunicherai bene con noi, creerai tanti problemi a livello di discussioni interne e perderemo tempo dietro a tutte queste cose e quindi non può funzionare. Quindi, insomma, siate nice, siate cordiali, siate gentili. Portatevi dietro delle idee, delle considerazioni, una risposta per quando vi chiederanno che cosa faresti tu, oppure cosa vorresti fare, cosa hai in mente per l'azienda, cosa pensi che possiamo migliorare. Per favore preparatevi sulla storia dell'azienda, su cosa fa sul mercato, imparatevi magari due o tre termini specifici legati a quel mercato, utilizzateli in maniera corretta, sapiente, all'interno di un discorso che andate a costruire, non fatevi gli script per il colloquio, deve essere una conversazione naturale e normale, però tenetevi a mente magari quei due o tre punti interessanti da poter menzionare durante il colloquio in maniera discorsiva, quando ce n'è l'opportunità, se non ce n'è l'opportunità, non forzate, tenetevi lì da parte, e poi magari li riutilizzerete in futuro. E un'altra cosa che voglio dire è preparatevi delle domande, cioè forse il consiglio più importante che si cela dietro molte di questi suggerimenti è anche voi state scegliando l'azienda. Può sembrare una banalità, però è vero, un colloquio è dalla parte di chi sta intervistando, ma anche dalla parte dell'intervistato. Quando voi decidete perché azienda andare a lavorare, state facendo una decisione molto importante per la vostra vita, spenderete lì mesi, anni, giorno dopo giorno, otto ore al giorno, nove ore al giorno, quindi non siate spaventati dal essere anche un po' selettivi con le aziende che è andato a scegliere e quindi di conseguenza fate anche domande sull'azienda. Io voglio sapere come funziona il team in cui andrò a partecipare, voglio sapere che cosa imparerò durante questa internship se si tratta di un lavoro iniziale, voglio sapere chi sono i miei colleghi, voglio sapere qual è l'obiettivo dell'azienda a lungo termine, voglio sapere tante cose. Preparatevi magari una lista di 5-10 domande, 10 curiosità che avete, perché poi la maggior parte delle persone che intervistano vi chiederanno hai domande per noi, c'è qualcosa che vorresti sapere e lì la cosa peggiore che potete fare è rimanere in silenzio, quindi voi vi preparate una lista, magari sceglietene da queste 5-10, una volta che le leggete createne 2 o 3 massimo che racchiudano un po' tutto e poi quando avete l'opportunità piazzate quelle domande, fatele, sia perché dimostra che siete interessati al lavoro, cioè io quando faccio colloqui e chiedo hai domande su questo ruolo, hai domande sull'azienda, la persona mi dice no, no, non c'è niente, non ti preoccupare, io anziché essere, come dire, rilassato, anziché rilassarmi a questo punto, mi preoccupo perché comincio a pensare ma com'è possibile che lui si sta candidando per lavorare 6 mesi con me e non vuole sapere niente, non vuole sapere di più su quello che andrà a fare, non vuole sapere di più con chi andrà a lavorare, è una preoccupazione, come dicevamo prima, un buon lavoro da fare durante i colloqui è quello di togliere preoccupazioni a chi vi sta davanti, questa è una preoccupazione aggiunta, è meglio fare una domanda, meglio fare una domanda magari anche spinosa piuttosto che stare in silenzio, quindi preparatevi due o tre domande che sono utili sia a dimostrare il vostro interesse ma anche a capire di più riguardo l'azienda con cui state parlando e un'altra cosa un po' sottile ma magari l'essere ed il sembrare un po' selettivi riguardo l'azienda con cui si sta parlando vi fa sembrare anche più in demand, no? Quindi se io penso che una persona può essere assunta non solo da me ma anche da altri umanamente proprio il modo in cui gli umani funzionano il mio cervello avrà una maggiore voglia di assumere quella persona, no? Perché è un bene scarso, fa brutto parlare di bene quando si parla di persone ma è vero se io so che tu potresti non essere disponibile più dopo magari inconsciamente comincerò a pensare che sei una persona che dovrei assumere, no? Quindi c'è un po' questo meccanismo anche l'essere un po' difficile questa cosa esiste molto nelle relazioni è assolutamente vero che quando una persona è completamente disponibile per te ti sta dietro s'accolla come direbbero come direbbero da me qui a Lisbona a Lisbona s'accolla è comunissimo come direbbero a Roma quando una persona s'accolla noi naturalmente tendiamo a perdere interesse mentre invece un po' perché siamo masochisti non lo so ma quando una persona si fa meno disponibile noi cominciamo a nutrire maggiore interesse verso di lei o verso di lui quindi questi sono un po' i miei consigli per quanto riguarda come sono stato assunto la prima volta se siete qui sul canale di Parlare Digitale da poco vi consiglio di andare a guardare altri video sicuramente ci sono altri video in cui parliamo di come utilizzare LinkedIn per velocizzare la vostra carriera per migliorare i vostri contatti parlo anche della prima volta in cui sono stato licenziato adesso forse troverete questo video in descrizione se è già disponibile parlerò anche di più riguardo la mia storia cioè come ho fondato questa agenzia che cosa fa in maniera precisa e soprattutto ci sarà una serie in cui vi spiegherò per filo e per segno il percorso nella fondazione della startup che ho menzionato forse prima in cui appunto cerchiamo di migliorare la salute fisica e mentale degli anziani tramite attività online vi spiegherò dalla storia che ci ha portato alla fondazione fino al momento in cui abbiamo fatto il nostro primo investimento quindi nel momento in cui ci hanno dato i primi soldi per continuare a portare avanti l'azienda e poi vedremo in futuro i primi clienti le prime perdite dei clienti i primi confronti i primi problemi voglio portarvi un po' questa questa inside inside story su tutto quello che sta succedendo nei limiti del possibile senza venire denunciato dai nostri investitori o dagli altri co-founder quindi vi consiglio di iscrivervi di attivare le notifiche insomma le solite cose da youtuber e soprattutto se pensate che ci sia qualcuno che possa beneficiare da questo video condividetelo e se avete domande se avete ancora questioni risolte se magari c'è qualcosa che ho detto in questo video con cui non concordate sentitevi liberi di lasciare un commento qua sotto io sono lì anche per rispondere quindi ci sentiamo presto e un saluto a tutti ciao ciao